Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia speciale del campionato tedesco del Bayern Monaco per la stagione 22-23, questa volta in edizione FAN. Adidas e Bayern Monaco hanno rilasciato un kit speciale per il cinquantesimo anniversario dello Stadio Olimpico di Monaco. Lo Stadio Olimpico di Monaco ha ospitato il Bayern dal 1972 al 2009. In questo stadio leggendario sono stati celebrati numerosi successi. Il 28 giugno 1972, l'FC Bayern Monaco ha giocato per la prima volta all'Olimpia Stadium. La maglia combina una base bianca con arancione, blu turchese, grigio notte e giallo. La combinazione di colori si ispira al design delle Olimpiadi del 1972. Una serie di sottili motivi ispirati all'iconico tetto dell'Olimpia Stadium completano il look. La maglia è molto bella. Nella mia classifica prende 4 stelle. Molto bello questi colori e veramente di una quantità entusiasmante. Il costo lo vedete qui sopra. Non aggiungo altro perché comunque parla da solo. Un costo bassissimo per una maglia fatta veramente molto bene. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Prima di lasciarvi mi raccomando lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni sul canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.